La presentazione dei candidati di SEL in provincia di Caserta, innanzitutto la lista secondo lei come è composta e la qualità dei candidati casertani? Noi abbiamo presentato in lista sette candidati alla Camera e tre al Senato, tutti di ottima qualità, tutti compagni di partito che hanno per l'ennesima volta inteso dare un contributo al nostro partito e alle nostre liste per far sì che la proposta di sinistra qui da tempo stiamo lavorando in tutta Italia e in questa provincia per riportare la sinistra in Parlamento sia più forte anche qui ed abbia più possibilità di riportarci nel luogo in cui la sinistra deve stare. È la proposta che va nella direzione tracciata dall'inizio, dalla nascita di questo partito, riportare in Parlamento una sinistra che sia di governo, che faccia scelte di governo e non sia minoritaria. Stiamo avendo dei risultati importanti, non ultimo quello annunciato da Bersani nell'ultima conferenza stampa in cui praticamente dice di aver accolto la proposta di SEL di introdurre un reddito minimo che fino a poco tempo fa era un tabù per questo paese. Quindi iniziamo già a raccogliere ancora prima di andare al governo i risultati di una scelta che è stata discusa e una scelta che poi abbiamo fatto tutti quanti insieme ed in qualche modo ci mette su un gradino diverso rispetto a quella sinistra che continua a fare delle scelte minoritarie, che rappresenta delle idee che ci possono anche vedere d'accordo ma che ancora non capiamo come intendano poi attuarle, come intendano metterle in un'agenda di governo se si rifiutano di stare in una coalizione di governo. Da questo punto di vista noi come Caserta continueremo a dare il contributo che abbiamo sempre dato, sempre avendo degli ottimi risultati e ci aspettiamo un ottimo risultato anche questa volta. Quali saranno le iniziative elettorali, politiche di SEL in provincia di Caserta? La prima, come dire, in ordine cronologico e di importanza è sicuramente quella che vedrà presente per l'ennesima volta in provincia di Caserta Nichivendola che verrà al Teatro Izzo il 31 alle ore 19 ed è un'iniziativa che, come dire, se c'era bisogno di sottolinearlo mette di nuovo in risalto l'importanza che ha questa provincia nel progetto di Sinistra Ecologia e Libertà e l'attenzione che Nichivendola dà al nostro territorio per i temi che noi gli abbiamo presentato, che lui ha imparato a conoscere in questi anni in cui ci ha seguito e sono i temi che conoscete tutti, la legalità su cui noi abbiamo fatto svariate iniziative, non ultima quella di fotografarci tutti la questione ambientale, l'abbiamo portato a Carditello che rappresenta in qualche modo la potenzialità di questa provincia insieme ai problemi perché è lì che sono concentrate le discariche ma c'è anche la potenzialità di una struttura come quella che è una ricchezza per questa provincia e che può dare un nuovo slancio sia dal punto di vista economico, turistico che ambientale c'è tutte quelle battaglie che noi riteniamo siano propedeutiche ad un rilancio anche del mondo del lavoro che ci vede sempre più penalizzati, ci vede sempre tra le ultime province d'Italia e che noi invece riteniamo che nella prossima agenda di governo debba essere uno dei temi fondamentali che riporti qui anche lanciando un'economia ecosostenibile, se così possiamo dire, per nuovi posti di lavoro e per dare un risalto diverso ai cittadini di questa provincia che stanno soffrendo da troppo tempo.